benvenuti su veia games iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita ciao a tutti e ben trovati su veia games con naruto shippuden shippuden ultimate ninja storm 4 cioè non è un titolo è un rosario allora ieri avevo iniziato comunque quando avete visto il video adesso non so se è ieri l'altro ieri mi ricordo neanche più ed epilogo abbiamo iniziato la storia in realtà questo l'abbiamo già visto in realtà un brutto parlo di epilogo va bene abbiamo fatto la prima missione di naruto e pensavo di farne una e una o comunque anche in base alla storia perché questa se non sbaglio viene dopo di questa quindi il taccavola bisogna capire che cosa intendono dire per il taccavola quindi intanto facciamo questo vado in base un po alla durata della missione un po alla storyline per quello che mi ricordo c'è un ragazzo in clima di naruto da fatta una mancina un ragazzo di naruto da fatta una mancina un ragazzo di naruto sasuke uchiha ha vivuto per un periodo di tempo e di pazza ma come iniziato a caminare il patho di rivengge si 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 avuto sui sogni e succedere perché si 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 no ben lies the hidden leaf was the real enemy soon the tiny flames of hatred grew into the inferno that was the fourth great ninja war and as the terrible conflict erupted as he dashed toward the battlefield sasuke uchiha saw someone completamente non esperto. Il suo figlio è stato rivolto nel mondo fisico. Dopo il tempo, i due sono arrivati a termini e erano finalmente ragazzi di più. E poi, dopo che succedere a quello che è arrivato a fare, Itachi si è rivolto nella luce. Io sempre ti amo. Lasciando solo una linea di verità con il suo piccolo figlio. Noi. Noi. Non ci sono? Non ci sono? Sì, siamo andati all'interno per te. Quindi, cosa vuoi con me? Perché hai venuto all'interno per me trovare? Beh, la cosa è che ci siamo appena a un'escritto di scuola in Orochimaru. Voi un'escritto. Beh, è abbastanza inolente, eh? Sì, sono l'escritto con tutte le risposte. C'è qualcuno che ho bisogno di vedere. Chi è? Orochimaru. Orochimaru. Cosa stai? Cosa stai dicendo? Voi sapere di Orochimaru? Voi pensi che questo sia sufficiente per evitare lui? Jugo, porti a quella persona, anche. Chi è lei? A hidden leaf ninja Kabuto kidnapped. The seal absorbed Orochimaru's chakra. We'll just use that to summon Orochimaru back. Whoa, hold on. Reviving Orochimaru is way too dangerous. Huh? Curse unsealing! Ah, sì. 70% salute. Ah, va bene. Non farò nessuna di queste missioni, non lo saprei già. Ah, va bene. Ah, va bene. Ah, va bene. Ah, va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma è stato chissà quanto difficile. Sì, non hai bisogno di rispettare tutto questo. Ho stato guardato il tutto il tempo, ricordi? Non potevano farlo animato. Non ho bisogno di raccontare tutto il tempo. Non ho bisogno di rispettare tutto il tempo. Non ho bisogno di rispettare tutto il tempo. Non ho bisogno di rispettare tutto il tempo. Ok. Ma io direi di continuare con 14 minuti tempo stimato. Quindi tecnicamente faccio questa... E finisco il video. Sono guardato delle molte animazioni. Wow. Non ho bisogno di rispettare tutto questo. che succederebbe? No. 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 La storia qua l'hanno modificata, insomma. Reanimazione di nuovo? Tutti sembra che non si tratta di usare il jutsu che ho inventato. C'è una ragazza per questo. Mi ho preparato tutto questo per dare aiutare i loro. Mi nome è Sasuke Uchiha. Ho alcune domande per Yuhokage. Cosa? Sasuke? Prima di tutto, il terzo. Perché hai fatto il mio amico fare ciò che ha fatto? Lo vedo, quindi lo sai. Io ancora voglio ascoltare da tua. Tutti sull'Itachi. L'hanno ucciso i miei membri di clan. L'hanno ucciso una guerra. L'hanno ucciso anche in Akatsuki come spiare dopo questo. Per mantenere il villaggio sicuro. Tutti sotto la condizione che io proteggo a te, il mio amico. è il mio amico. L'ho 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 amico. Quintate che dovrebbe essere con cui non si può fare. L'ho amico. Posso prendere la scuola per la scuola, o... La scuola per la scuola? Pensi che sto facendo te... Tobirama! Prendete la mano! C'è bene! Bene! Sì, scusate! Sì... Chcesi a sapere di la città che dici? Mi sembra essere riuscito a te raccogliere cosa vuoi sapere, ma potrebbe farci qualche tempo! Non. Poi dà spiegare alla ragazza cosa vuoi sapere, per la immediata che vuoi sapere. Cosa vuoi? Siamo in mezzo di una guerra qui. Madara Uchiha è tornato a la vita e sta cercando di destruire tutti i ultimi ninja del mondo. Sì, posso sentire una presenza potente di chakra a 2 o'clock. Il secondo Hokage è vero. Mi prendo anche qualche chakra intensa. Ma non è solo questo. Non, credo... Ah, questo sentimento. Naruto, tu stai combattendo anche, non? Se Madara è tornato, parlare dovremo aspettare. Non possiamo scegliere qui e fare nulla. Mi sono scopo, ma se vuoi andare a la battaglia, devo insistere che abbiamo finito la nostra conversazione prima. Se non puoi dare a Sasuke con le risposte che vuole, non potrei dare a lui per usare tutti i nostri spettatori di scopo. Non lo so, Orochimaru. Non lo so, Orochimaru. Lo so, dobbiamo capire. Il nostro primo priorità deve essere trovare un modo per rinforzare ciò che sta confondendo a lui. Quindi, dove dovrei provare? O, per esempio, per raccontare cosa sono un villaggio e un ninja... Io devo prima di raccontare i due clanni, Uchiha e Senju. Allora si so, lo so. Noi abbiamo battuto, e due stiamo all'interno delle destini. I due stiamo all'interno, e i due stiamo all'interno, dove dovremmo capire che il primo sia unismo. Ah 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 Good Si trattate assolutamente il nostro progetto! Madara, perché? È terminata, Madara! Ma adesso si verrà? Dai, sta prendendo un po' la mano, su. Non importa cosa succede. Credo che proteggere il villaggio significa proteggere le persone di l'Hidden Leap, i ninja, i bambini. Non importa chi è, mio amore, mio amore, o mio mio figlio. Non mi perdere nessuno che lo ha scoperto. Non mi perdere nessuno che lo ha scoperto. Ciò creerà l'amore nel villaggio. Un giorno. Non mi perdere nessuno che lo ha scoperto. È quando ho trovato la mia risoluzione. La mia risoluzione per proteggere il villaggio fino alla fine. Non lo so come si ha risurretto adesso. Ma ho scoperto il mio amore per bene. Per l'amore del villaggio. Che mi ha portato alla villaggio. Il che mi ha pensato prima che i Madara e i nostri, era un paio per i clani che si riuscano e interagire. Un'unica per portare il ordine dal caos. E mantenere così. Un'unica dove i nostri potessi essere sicuri. Un'unica di pazza. Ma il fatto è che ha scoperto una scoperta come quella che il tuo fratello Itachi aveva. Probabilmente Madara era giusto. Probabilmente si vede tutto ciò che arrivò. Sono l'unica che ha scoperto quella situazione. Sono l'unica che ci ha dato il bene. È un'unica che si tratta di tutto ciò che è necessario per ottenere il suo obiettivo. È un'unica che si tratta di quello che si tratta. È un'unica che si tratta nel suo obiettivo. È un'unica che si tratta di quello che ha bisogno di riusciere il suo obiettivo. È quella che stavo il vicino. Ma Madura aveva un'idea differente. Non lo so che riguarda Madura. Non lo so che è l'idea della sua di ridurre il ninja del mondo. Ma... Infinite Tsukuyomi. Regardless of clan, creed, country or anything. He wants to trap everyone in a genjutsu so he can make things happen exactly as he desires. Everything my brother... And you fought so hard to protect. He wants to destroy it all. Then we can't afford to stay here a moment longer. Now that you've heard the first Tokage's explanation, What do you intend to do with it? Will you turn your blade toward the hidden leaf? Or... Sasuke, forgive me. I always lied to you. I asked you to forgive me. Even as I kept pushing you away. I didn't want... To pull you in. But now I think of it this way. Maybe you could have changed father... Mother... The Uchiha clan... If I'd faced you honestly from the very beginning. If we'd told each other the truth as equals. I failed. I won't put myself above you and tell you this and that. It's too late. So this time for once... Let me tell you one small truth. It's alright if you never forgive me. But... No matter what you become... I will always love you. I know. I'm going into battle. The village... Itachi. I won't let it all be in vain. Well said. Come then. There's no time to lose. So... That's the path you've chosen. Now... Show me what you're capable of. Sasuke Uchiha. Your new wind. Coloro che tutto sanno. Bene. Credo che... Sia finito. Esatto. Allora... Come ho detto... Facciamo questo... Facevo questi due episodi. E... Concludevo qui il video. Quindi io... Spero che il video vi sia piaciuto. E... Ci rivediamo al prossimo video. Quindi mettete un like. E... Iscrivetevi al canale per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.